Che cosa successe? Ora ve lo faccio vedere. Tutto era grigio e spento. E noi volevamo colore, volevamo portare il colore a Londra. È stata la prima generazione ad avere avuto le potenzialità per lasciare un segno. Sta per scoppiare una rivoluzione. Poi, ad un tratto, i ragazzi inglesi iniziarono a pensare con la propria testa. Cominciarono ad avere le loro idee sulla moda e anche sulla musica. Dicono, i Beatles hanno creato la Swing in London degli anni Sessanta. Ma non è vero. Londra ha creato i Beatles. Tutto a un tratto c'erano un po' di persone di Londra che erano considerate le più interessanti e affascinanti del pianeta. Il libro con le vecchie regole veniva strappato e buttato via. La mia generazione pretese un nuovo inizio. La mia generazione pretese un nuovo inizio. La mia generazione pretese un nuovo inizio. Grazie a tutti.